Una cerimonia ufficiale come ogni anno il 2 novembre per ricordare i defunti. Si è svolta questa mattina al cimitero dei Boschetti della Spezia, alla presenza del prefetto Mauro Lvatti, dell'assessore Corrado Mori e delle autorità civili, religiose e militari. Con la celebrazione della Santa Messa sono stati ricordati tutti i fedeli defunti. La cerimonia è stata ufficiata da Sua Eccellenza il Vescovo Diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Dopo il momento di preghiera e di ricordo, la cerimonia civile durante la quale sono stati commemorati coloro che persero la vita in guerra, durante la guerra di liberazione di cui quest'anno ricorrono i 70 anni, oppure 100 anni fa nella grande guerra, senza dimenticare chi perse la vita a causa delle deportazioni e della crudeltà degli uomini. In loro onore sono state deposte, come ogni anno, le corone dall'oro presso i monumenti dedicati. Il Sacrario dei caduti di tutte le guerre, il Monumento ai caduti partigiani e il Monumento ai deportati.